Primo requisito fondamentale è la sicurezza. Il Marocco da questo punto di vista offre buone garanzie rispetto ad un'area nordafricana oggi più che mai calda per l'emergenza migranti che coinvolge tutto il Mediterraneo e l'Europa. L'ambasciatore del Marocco in Italia, San Abouyoub, ha incontrato gli imprenditori abruzzesi e pescaresi nella sede della Camera di Commercio di Pescara, accompagnato dal senatore Antonio Razzi e dal presidente dell'ente camerale di Chiete Pescara, Daniele Beci. L'obiettivo è quello di aprire la strada, nuove opportunità commerciali tra il paese nordafricano e l'Abruzzo. Sono qui per avviare un processo direi quasi storico e mi auguro che fra poco una bella delegazione dell'Abruzzo sia il mio paese per approfittare di ciò che ormai la virtù del Mediterraneo ma al di là di questo le possibilità offerte dall'Africa ma non solo. Quanto sta accadendo con i migranti, con l'Europa? Questa tensione che c'è con l'Unione Europea può influire sui rapporti commerciali e come? Direi che no, per il Marocco è una situazione diversa nel suo sforzo fenomenale per controllare i flussi nella zona ovest e questo è noto. Però in Italia devo cogliere questa opportunità per rendere un omaggio sentito sia alla marina italiana ma anche alla guardia costiera per questo lavoro eccezionale che state facendo meglio che quello che l'Europa sta facendo. L'Italia è la guardia direi dell'umanità e dell'umanismo e questo non è strano per un paese che da millenari ha una tradizione di apertura e di accoglianza. Io come cittadino del Mediterraneo mi sento orgoglioso di essere qui in Italia, in questo paese che ha saputo gestire questo al di là di tutte le considerazioni, mettendo la vita umana sopra qualsiasi visione burocratica eccetera.